Ok, ragazzi, ricordate quello che stiamo cercando. E non fidatevi di nessuno. Ciao, piccola. Dov'è la tua famiglia? Ehi, chi ha smarrito? Cosa? Davvero? E sei un bebè! Notevole. Potreste unirvi a noi. Facciamo un riassunto. Il mio nome è Raya. Le nostre terre sono in guerra ormai da tempo immemore. I nostri popoli non si parlano. Figlia mia, i nostri popoli possono essere di nuovo uniti. Ma qualcuno deve fare il primo passo. Ora, per ristabilire la pace, dobbiamo trovare l'ultimo drago. Anch'io voglio unirmi a voi. Prendiamoli a calci. Contaci. Dovremmo guardarci le spalle. Non siamo gli unici a cercarlo. Sei anni di ricerche. Per favore, che sia questo. Oh, potente Sisu! Iete parla. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sarò sincera con te. Non sono il miglior drago. Ti è capitato di lavorare in gruppo con un ragazzino che non fa praticamente niente, ma prende lo stesso un bel voto? Siamo spacciati. Due pezzi di gemma drago venite con me. La mia spada non è d'accordo. Il mondo è lacerato. Non puoi fidarti di nessuno. O forse è lacerato perché non vi fidate di nessuno. Devi fare tu il primo passo. Mi sono trasformata. I draghi riescono a farlo? Il mio sedere è così vicino alla testa. Ora digerirò in un attimo. A marzo al cinema e per gli abbonati a Disney Plus. Con pagamento aggiuntivo per accesso VIP. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!